Credo di essere stato anche, come dici tu, fortunato ad esistere in quel periodo lì, che era poi il 2016-17, in cui evidentemente c'era un buco, quindi sono riuscito a ripirlo, poi sicuramente il fatto di fare delle canzoni sincere magari ha aiutato le persone ad affezionarsi, però credo che nella vita in tutto, non solo nella musica, non si può attribuire ad un successo, ripeto non solo della musica, non si può attribuire ad un successo soltanto la perseveranza o soltanto la fortuna o soltanto il momento giusto, soltanto il talento, credo che siano in realtà veramente tanti fattori, io li chiamo cassetti, cioè quando vedo un artista che veramente mi lascia così dico ecco questo c'è tutti i cassetti pieni.